Buonasera tra poco nel nostro telegiornale La Cronaca con un'operazione condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria che ha portato al fermo di quattro persone tra le quali anche un minore. Ritorneremo sull'inchiesta senza terra avviata dalla Guardia di Finanza sulle false cooperative messe in piedi nella Sibaritide ed ancora è la primo sopralluogo da parte dei consulenti tecnici nominati dalla Tribunale di Paola all'interno dello stabilimento Marlane di Praia Mare. Vi parleremo dei momenti di tensione all'Università della Calabria dove il ministro dell'Università Maria Chiara Carrozza è stato contestato da alcuni studenti dell'inaugurazione del Museo delle Reali Ferrieri Borboniche di Mongiana nel Vibonese e di tanto altro ancora subito dopo il nostro Don Mario. Vi aspetto. Avevano preso di mira gli imprenditori e i commercianti ai quali chiedevano il pizzo per il sostentamento delle famiglie dei detenuti. Alcune delle vittime però si sono ribellate e hanno denunciato. È partita l'operazione che ha portato al fermo di quattro persone tra le quali un ragazzo di 16 anni. Conclusa le indagini dell'operazione Senza Terra sulle false cooperative scoperte dalla Guardia di Finanza nella Sibaritide che nell'ottobre del 2012 portò all'arresto di 37 persone e all'emissione di 92 avvisi di garanzia. I consulenti tecnici nominati dal Tribunale di Paola nello stabilimento di Praia Mare, primo sopralluogo nella fabbrica della Marlane, appello del figlio di un operaio, sia fatta giustizia per la morte di mio padre e di altri 100 dipendenti. Dura contestazione per il ministro della pubblica istruzione dell'Università Maria Chiara Carrozza al suo arrivo all'Unical. L'esponente di governo è stata accolta con un lancio di pietre ed uova. Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti. Lavori interminabili, durati 37 anni per la costruzione del Museo delle Ferriere. Oggi, finalmente, la struttura ha aperto le sue porte ai visitatori. Ancora buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano, dunque, la cronaca con una operazione condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria. La Polizia ha individuato i responsabili di un'associazione mafiosa che avrebbero tenuto sotto scacco l'area di Palmi, taglieggiando imprenditori e commercianti per pagare le spese di detenzione degli affiliati. Coinvolto anche un minore. Marisa Fallico. Un fiore per la cosca Gallico, un aiuto economico per i carcerati. Con queste parole, i presunti esponenti della storica consorteria di Palmi chiedevano il pizzo ai blenditori e commercianti della città, nessun escluso. Un rastrellamento a tappeto. Ma non bisogna lasciarsi ingannare dalle parole che potrebbero anche sembrare cortesi. Il tono con cui venivano proferite e i termini utilizzati quando la vittima diceva di no erano decisamente intimidatori. Ma questa volta alcuni venditori hanno deciso non solo di rifiutare, ma anche di collaborare con la giustizia. Ed ecco che all'alba sono scattati quattro fermi, una quinta persona è ricercata. Il blitz degli uomini della mobile di Reggio Calabria, coordinato dalla DDA, ha portato in carcere Antonio Cosentino, alias Poldino, 52 anni, Rocco Bartuccio, 27 anni, Rocco Brunetta, 36 anni, e un minore. Tutti organici, secondo gli inquirenti, alla cosca Gallico. Una cosca decimata negli ultimi anni da importanti operazioni antimafia, su tutte, cosa mia, 1, 2 e 3, e dalle sentenze che ne sono scaturite, con condanne pesantissime per boss e gregari, l'ultima nel luglio scorso. Una consorteria, indebolita sul piano economico anche dai numerosi sequestri di beni. Ed è per far fronte a queste difficoltà, per assicurare sostegno alle famiglie dei detenuti, per acquisire immobili e attività commerciali, e per mantenere forte il potere di controllo sul territorio, che i fermati avevano messo in atto un sistema estorsivo ancora più asfissiante. Impressionante, secondo quanto acclarato dalle indagini, il ruolo assunto dal minore. Lo stesso non esitava a minacciare gli imprenditori, commercianti, con fare da boss consumato. Vi raccomando, dice ad un imprenditore a cui aveva chiesto 5.000 euro da consegnare entro il 18 settembre scorso, alle 4 e mezza, mi servono i soldi, e vi raccomando di non denunciare, se no sapete a che andate incontro. E a fronte del rifiuto, qualche giorno dopo, minaccia il figlio dell'imprenditore. Ma non solo richieste di denaro, uno dei fermati avrebbe minacciato il titolare di una ditta per far assumere il fratello. A Palmi non possono lavorare operai di Gioia Tauro. Se non lo fai, parlo con chi so io, e non so cosa può succedere. Indagini che rappresentano il termometro, per usare le parole degli inquirenti, del clima che si respira a Palmi. Dopo la raffica di arresti e condanne, si sta aprendo una breccia nel muro dell'omertà. Proseguiamo con la cronaca, avviso di conclusione delle indagini per le 129 persone coinvolte nell'inchiesta della squadra della Guardia di Finanza denominata Senzaterra. Un'operazione che nell'ottobre dello scorso anno consentì agli inquirenti di scoprire oltre 4.000 falsi braccianti agricoli e una truffa ai danni dell'Inps per 11 milioni di euro. Ce ne parla Isabella Roccano. Nell'ottobre dello scorso anno l'operazione della Guardia di Finanza denominata Senzaterra, che portò all'esecuzione nella zona dell'Alto Ionio Cosentino, tra Corigliano, Rossano e Cassano, di 37 misure cautelari personali, 84 perquisizioni, al sequestro preventivo di oltre 66 milioni di euro e alla notifica di 92 abissi di garanzia. Gli inquirenti, dopo mesi di appostamenti, pedinamenti e dopo aver esaminato una notevole mole di documentazione, individuarono il sistema attraverso il quale un presunto sodalizio avrebbe truffato l'Inps percependo illecitamente indennità per circa 11 milioni di euro. Oggi i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Cosenza hanno notificato ai 129 indagati gli avvisi di conclusione delle indagini emesse dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Peculato, corruzione, abuso d'ufficio, falso, accesso abusivo a sistemi informatici e violazione della normativa in materia elettorale, queste le accuse contestate. Gli inquirenti hanno scoperto 28 false cooperative agricole e circa 4.100 falsi braccianti agricoli che svolgevano il loro lavoro solo sulla carta, presso terreni dignari committenti o addirittura inesistenti. In realtà erano dipendenti di enti sindacali, praticanti presso studi legali, casalinghe e giovani studenti universitari, persone cioè che nei campi non avevano mai lavorato, ma per ottenere indennità di disoccupazione agricola, di malattia, segni familiari e maternità, erano disposte ad anticipare al sodalizio le somme di denaro necessarie per il versamento dei contributi previdenziali. Ed esisteva un vero e proprio listino prezzi per la compravendita delle giornate lavorative, 500-600 euro per 51 giornate, 1.000-1.200 euro per 101 giornate, 1.500 euro per 151 giornate. L'organizzazione criminale, scoperta dalle fiamme gialle e composta anche da commercialisti e consulenti del lavoro, lucrava sulle indennità maturate dai falsi braccianti agricoli, trattenendo per sé una quota parte delle somme erogate dall'Inps. Il sodalizio, dopo aver ricevuto le somme, provvedeva a comunicare con false certificazioni all'Istituto di Previdenza il numero delle giornate effettuate. Un sistema economico deviato, evidenziano gli inquirenti, diventato nel tempo un vero e proprio meccanismo di illecito sostentamento dei redditi personali e familiari di un elevatissimo numero di persone. Con la cronaca ci spostiamo nel Vibonese ad Acquario. Il cadavere carbonizzato di un uomo, Giuseppe Damiano Cricri, 40 anni, è stato trovato nella sua automobile incendiata nelle campagne. L'uomo era irreperibile da ieri, quando i familiari avevano presentato denunce ai carabinieri che avevano avviato le ricerche. Gli investigatori dell'arma non escludono né l'ipotesi dell'omicidio né quella del suicidio. Ritorniamo adesso sulla vicenda legata alla Marlane, primo sopralluogo da parte dei consulenti tecnici nominati dal Tribunale di Paola all'interno dello stabilimento di Praia Mare. Non sono mancati i momenti di tensione. Valentina Palmieri. I cancelli di Marlane si riaprono a distanza di nove anni dalla cessazione delle attività. L'equip dei consulenti nominati dal Tribunale di Paola entra, con loro anche i periti di parte. La fase cruciale del processo sulle morti degli operai in servizio nello stabilimento di Praia Mare parte da qui. Una prima presa visione dei luoghi si scattano foto, poi si proseguirà con altri sopralluoghi e il prelievo dei materiali all'interno della fabbrica e nell'area circostante. L'inizio delle operazioni per i tali partiva già da oggi. Facciamo un primo sopralluogo conoscitivo, probabilmente ne faremo degli altri, giusto per iniziare a renderci conto, per poter cominciare a lavorare. Il pool di specialisti avrà il compito di accertare il nesso di causalità tra il lavoro svolto e l'insorgenza di tumori tra gli operai. Il padre di Ignazio Ferraro era un operaio di Marlane deceduto per un tumore ai polmoni. Chiedo giustizia, giustizia di mio padre perché mio padre è morto, mio padre l'hanno fatto morire giorno per giorno. Oltre 30 anni di servizio, poi la comparsa di quei dolori al petto. Gli davano nemmeno una mascherina, non coperto, non a norma e quindi lui arrivava a casa, rimetteva sempre cose marroni, nere dalla bocca. Finché un giorno si è ammalato, è svenuto in casa, siamo andati al Forlanini di Roma e abbiamo scoperto che lui aveva questo tumore ai polmoni. La testimonianza di Ignazio è simile a tante altre. In tribunale i familiari dei dipendenti di Marlane hanno più volte denunciato l'assenza di misure di protezione. Anche questo aspetto dovrà essere accertato dai consulenti. Il mio padre non era andato a lavorare per morire, era andato a lavorare per portare la famiglia avanti. E ancora, quanta gente moriranno in questi posti qua? Gli imputati, 12 tra dirigenti e vertici della Marlane, sono accusati di omicidio colposo e disastro ambientale. Per questo motivo, nelle prossime settimane saranno effettuati dei campionamenti nell'aria antistante la fabbrica per accertare se ci sia stato inquinamento dei suoli causato dallo smaltimento delle sostanze utilizzate in fabbrica. Momenti di tensione all'Università della Calabria dove il ministro dell'Università, Maria Chiara Carrozza, è stato contestato da alcuni studenti, forzato il cordone delle forze dell'ordine ed un carabiniere sarebbe rimasto ferito anche negli scontri. L'esponente del governo Laetà si è fermato ed ha parlato con i manifestanti. Emilia Canonago. Dentro o fuori, il cancello di Lamiera separa gli invitati dai manifestanti. Il ministro dell'istruzione Carrozza inaugura all'Unical la residenza San Gennaro e va in scena la protesta. Il nostro ministro Carrozza ci chiede di protestare, ci chiede di ribellarti. Noi lo stiamo facendo e la voce del dissenso non può arrivare nemmeno al ministro. Ingresso principale è superprotetto ma lati scoperti. Pochi minuti è il corteo e dentro è il cantiere. Protesta trasversale, diritto allo studio e alla casa, reddito garantito, trasporti, politiche di austerità. Ci vogliono dire all'ex rettore, la torre, che sta inaugurando queste case per privatizzarle. Che questa inaugurazione non si deve fare perché non c'è nulla da festeggiare. Le forze dell'ordine intenutanti sono mossa, premono sui manifestanti per liberare la strada e consentire il passaggio del corteo. Sale la tensione. Sono pazienti, sono pazienti, sono pazienti, sono pazienti. Parte un lancio di pietre, ferito un carabiniere, sasse l'indirizzo dei cronisti, un manifestante finisce a terra. Io non c'è nulla da qui. Il rettore la torre è scendendo dall'alto, la folla lo contesta. La situazione rischia di precipitare, c'è nervosismo. Le auto sgommano in tutta fretta verso l'ingresso del centro residenziale. I manifestanti non demordono e conquistano spazi. I loro cori giungono fino ad entro. Difficile far finta di niente. Il ministro è disposto a ricevere una delegazione. Sì, l'ho già detto, l'ho già detto. Sono qui che gli aspetto. Il rettore inizia il suo intervento. Il ministro è scuro in volto. Impossibile andare avanti. Decide così di parlare con gli studenti. 50.000 studenti universitari negli ultimi 5 anni non si sono potuti iscrivere all'università per i costi. Non c'è un diritto allo studio. La copertura delle forze di studio in questa regione è del 32%. Quest'anno l'università ha avuto 150 milioni di euro in più che verranno dati su base premiale proprio per i servizi agli studenti. Su base premiale, non per l'università. Per i servizi agli studenti, agli studenti. Hai capito? Io sto lavorando per gli studenti. Il ministro cambierà tre penne prima di apporre la sua firma sul registro d'onore. Le prime due non scrivevano. Protesta dei dipendenti della Calabra Maceri per la mancata corresponsione di uno stipendio. L'azienda ha già deciso di erogare la mensilità ma lamenta il ritardo nei pagamenti da parte dei comuni ai quali eroga i servizi minacciando il rallentamento dell'attività. I sindacati trattano con l'azienda e portano l'avvertenza però in prefettura ed assi industria. Gianluca Pasqua. Le ragioni dei dipendenti e quelle del datore di lavoro alla Calabra Maceri si è arrivati all'interruzione del servizio. Questa mattina infatti non è stata eseguita la raccolta differenziata porta a porta prevista dal calendario dell'attività. Le tutte gialle hanno incrociato le braccia protestando contro la mancata corresponsione dell'ultima mensilità. La nostra telecamera ha filmato l'arrivo in azienda dei sindacati e ha ripreso integralmente il dialogo intrattenuto tra i segretari di CISL, CGL e i vertici aziendali. Le richieste dei lavoratori. Tu questa mattina hai dato parola ai lavoratori che entro lunedì li avresti pagati, che i comuni versavano o meno. Ti possiamo chiedere il sacrificio di fare i bonifici giovedì? La possiamo anticipare da venerdì giovedì o devo aspettare che a chi diciano questo? Una trattativa vera e propria, a tratti accesa perché sullo sfondo c'è sempre il solito problema, l'incapacità delle amministrazioni comunali di versare nelle casse aziendali quanto dovuto, una situazione che mette in difficoltà imprenditori e famiglie facendo intravedere lo spettro di vertenze passate che hanno portato alla chiusura di realtà consolidate sul territorio. Questa è la situazione, qui ci sono 13 milioni di euro di credito, io se non ricevo la cosa non ci sono i soldi per prendere. Il problema è che rimane quello che ho comunicato, cioè io se non ricevo notizie dai comuni che hanno maggiore morosità, io dai giovedì interrompo i servizi, li riduco al minimo e bisogna incontrarsi insieme a voi per vedere i lavoratori in quel caso come vengono impiegati. Al termine del confronto, un'intesa di massima, l'azienda farà di tutto per accelerare i tempi, i lavoratori dovranno garantire però i servizi, almeno fino a che, non sarà l'azienda stessa a decidere di erogarli al minimo se dai comuni morosi non ci sarà una risposta concreta. Per i sindacati adesso si apre la fase del dialogo con la prefettura e con gli amministratori locali, alla ricerca di soluzioni fino alla prossima emergenza. Quello che è stato già fatto è quello che ancora si deve fare. Su questo è stato incentrato il Consiglio Comunale di Cosenza. I lavori sono aggiornati al prossimo lunedì 28 ottobre. Vediamo. Il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, alla scadenza dei primi due anni di amministrazione, ha relazionato in Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del suo programma di governo, che dopo il periodo di progettazione è già passato alla fase di realizzazione di progetti definiti dallo stesso primo cittadino rivoluzionari. Prima di passare ad illustrare le attività realizzate, il sindaco ha sottolineato la rivoluzione culturale che si sta cercando di compiere per ridare centralità al capoluogo Bruzio. Qualcuno mi ha accusato di essere Cosenza Centrico. In realtà è vero, lo sono, quindi è una cosa che non posso rinnegare. Però è un'accusa che prendo volentieri perché questa città ha ripreso ad essere punto di attrazione anche per un'area urbana più grande, per la provincia. Subito dopo, supportato da oltre 300 slide, il sindaco per oltre tre ore ha relazionato sui due anni di governo, iniziando da ciò che già è stato fatto. Abbiamo rivoluzionato i servizi, re-ingegnerizzato adesso con la nuova gara tutti i servizi di manutenzione della città attraverso le cooperative, abbiamo lavorato molto sul ciclo dei rifiuti, avviando la raccolta differenziata che ha come obiettivo il riciclo dei materiali, abbiamo lavorato molto sul sistema di trasporto pubblico urbano con le circolari veloci, stiamo facendo i lavori per l'efficientamento della rete idrica, nel primo di novembre partirà tutto l'efficientamento della rete di illuminazione pubblica. Il sindaco ha illustrato poi i grandi progetti in itinere. Abbiamo appaltato in pochi mesi una grande opera di riqualificazione dalla città con piazza Bilotti, che è una piazza museo con parcheggio interrato. Abbiamo anche un finanziamento per le opere immateriali, Cosenza Città Smart City, unica città in Calabria che riesce ad arrivare prima in graduatoria sui fondi per l'energia sulle Smart City, insieme a Bari avvia questo progetto importante che è rivolto anche ai giovani ricercatori. Il sindaco Mario Chiuto ha concluso il suo lungo intervento con lo sguardo volto al prossimo futuro della città, quando altri quartieri cambieranno volto, tra questi Vagliolise, che diventerà la porta naturale del commercio, e il Rione San Vito, che sarà quartiere d'eccellenza per lo sport. Nel Vibonesi adesso è stato inaugurato questa mattina, dopo 37 anni di lavori, il Museo delle Reali Ferrieri Borboniche di Mongiana, memoria storica di un importante passato per la Calabria al servizio. È un taglio del nastro che porta su di sé un peso notevole, perché per inaugurare questo Museo delle Reali Ferrieri Borboniche di Mongiana ci sono voluti 38 anni, tanto il tempo che è passato da quel progetto di Gennaro Mattacena, iniziato nel 1975. Non è importante i 38 anni che sono passati, ma il fatto che dopo 150 anni, dalla sua chiusura, riapriamo questa fabbrica e la ridiamo ai Mongianesi e ai Calabresi. Come è stato pensato questo lavoro di realizzazione del Museo? Questo lavoro è stato pensato per fasi successive, perché in 38 anni le idee cambiano, le tecnologie cambiano, quindi da una prima idea iniziale, molto così rudimentale, si è arricchito sia di tecnologie multimediali e sia di queste bellissime riproduzioni che anni fa non sarebbe stato possibile realizzare, per cui il coinvolgimento del visitatore oggi cerchiamo di catturarlo non solo attraverso una visione tradizionale, ma anche attraverso delle immagini un po' più coinvolgenti. La realizzazione di questo Museo, la cui inaugurazione è stata celebrata con un dibattito che ha riempito la suggestiva Sala Convegni e rappresenta certamente un passo importante nel tentativo di recupero dell'identità di un popolo e della grande storia del Sud, insomma un'importante operazione culturale. Il polo del Siderurgico, per eccellenza, che al momento in cui ovviamente si forma l'Unità d'Italia, scompare negli anni successivi. Questo era un grande centro di eccellenza, che ricordo intorno agli anni 1850, dava circa anche 2000 posti di lavoro, compreso l'indotto, quindi era un polo importante, significativo, e che poi ovviamente la nascita nel 1861 del nostro paese, l'Unità d'Italia, ovviamente poi converte o meglio realizza altrove gli interessi di questo tipo di investimento. È la dimostrazione di un Sud produttivo all'avanguardia, che aveva costruito anche una sua filiera, perché non ci dimentichiamo che insieme a Mongiana vi erano altre realtà limitrofe che facevano parte di questa filiera, e quindi era sicuramente un polo d'eccellenza che nel tempo abbiamo deciso di recuperare. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Un saluto agli amici di Tele Europa Network e ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di CosenzaMeteo.it. Prima di passare all'analisi satellitare, dimostriamo alcune immagini scattate dalle nostre webcam. La prima in fase di test installata agli impianti sciistici di Monte Curcio, che si va ad aggiungere a quella già attiva a valle, dove notiamo cielo sereno e i classici colori autunnali. In contrapposizione la seconda, scattata da Belvedere Marittimo, che invece ci mostra una giornata quasi estiva. Infatti dal satellite si può notare che il Sud Italia è sgombro da nuvolosità, mentre notiamo sull'Europa occidentale una vasta depressione, che già da questo pomeriggio interesserà il nord-ovest dell'Italia. Adesso passiamo alla carta del tempo. Come possiamo notare, l'alta pressione tenderà a rafforzarsi sull'Europa orientale, interessando anche il Sud Italia, determinando un ulteriore aumento delle temperature. Vediamo ora le previsioni dettagliate per la Calabria. Per la giornata di domani il quadro cambierà poco, cieli sereni ovunque, salvo innocue e valature nel corso della giornata. Temperature e rialzo rispetto alla giornata di oggi, di 2-3 gradi, superando le medie del periodo. Adesso diamo uno sguardo alla previsione dei mari e dei venti. Domani mare quasi calmo ovunque, con deboli correnti da sud sul Tirreno, da nord-ovest sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.cosenzameteo.it dove basterà immettere la località di interesse per avere previsioni a scala trioraria dettagliate. Per la puntata odierna è tutto. Grazie e arrivederci. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio Michele Cavireggia, Giuseppe Costanzi messi in onda ed auguro a voi tutti una serena notte. Grazie a tutti.